come il resto delle puntate di avvicinamento al traguardo la semifinale dell'isola dei famosi 2024 è stata tra le più tiepide di sempre il merito è condiviso tra cast anti dinamiche eccessi di sorprese e una conduzione a tratti acerba in ogni caso la penultima puntata di stagione del reality targato mediaset ha portato in fondo cinque finalisti più uno edoardo stoppa la contessa alvina artur dainese edoardo franco e aras senol ai quali si aggiunge il finalista segreto samuel peron a casa a un passo dalla gloria sono finite fuori dai giochi matilde brandi e carina sapsai passiamo ai voti isola dei famosi pagelle della semifinale artur il re di vivo abbiamo perso il conto delle volte in cui artur dainese è finito in nomination con relativi salvataggi scopriremo poi che è arrivato quota 10 il pubblico continua a premiarlo e ad avere la peggio è la valchiria carina sapsai proprio lui la vittima di ogni catena di salvataggio si prende la sua rivincita dopo l'ennesimo settimana da lupo solitario per scelta strappa il secondo pass per la finalissima e l'ultima collana da leader dell'edizione 2024 dell'isola dei famosi meno interessante di sempre la cricca di peron brandi e stoppa schiuma di rabbia mentre lui sfoggia il solito ghigno voto 8 rtur dainese isola dei famosi l'inspiegabile entusiasmo di vladimir luxuria vladimir le prova tutte con il suo entusiasmo ci permettiamo di dire forzato continuo a ripetere come un mantra ai naufraghi non date nulla per scontato alternato a tutto può succedere cosa potrebbe mai succedere di tanto sorprendente nulla temiamo dopo oltre due mesi di supplizio siamo sicuri che la conduttrice esulterà più dei naufraghi alla fine della dieta undurena come l'orchestra che continua a suonare mentre il titanic affonda vladimir è l'unica a fingere di crederci ancora meritava un'isola migliore ma ormai è parte della frittata voto 5 isola dei famosi edoardo stoppa leader a metà pur di buttare fuori artur l'amico degli animali le sta provando tutte non riuscendoci con il televoto ci prova gettando benzina sul fuoco ai danno del modello accusato di aver rubato del cocco l'eroe ha lasciato il suo coraggio nell'avventura di qualche settimana fa e ora fa la figura del bugiardo sonia bruganelli mette la ciliegina sulla torta della figuraccia lo state facendo vincere voi e mi stupisco che artur sappia usare le telecamere meglio di edoardo e samuel che una storia davanti alle telecamere ce l'hanno insomma bisognava farlo finalista per alzare il ditino e fargli notare che non è un eroe tanto meno senza macchia voto 4 matilde brandi a zanna edoardo stoppa la ballerina più famosa di roma nord è stufa di essere accusata di giocare col freno a mano tirato così si consuma il fratricidio per sua mano contro edoardo stoppa aizzata dallo studio sulla questione del cocco rubato poco dopo a stoppa tocca decidere le coppie dei duelli per conquistare la finale la prova fisica la fa giocare a matilde contro alvina e non è difficile prevedere come andrà a finire brandi perde il confronto ma non perde l'occasione di rincarare la dose somministrata all'ex amico e stoppa va k o voto 7 l'insostenibile pesantezza di peron non è una novità che samuel a volte sia un discreto martello pneumatico ma come per stoppa è arrivato il momento di fare il pieno di critiche e incassare senza troppi plissè del resto può solo ammettere di essere precisino e pesantone complice il tempo dilatato dell'isola fin qui nulla di male almeno per chi guarda comodamente da casa ma per spalleggiare il sodale stoppa si invischia nel occo gate e finisce per fare una figuraccia condivisa voto 6 iva zanicchi risveglia lo studi ad accorrere in soccorso di samuel peron arriva l'ex allieva iva zanicchi che ha avuto a che fare con lui nelle vesti di un severissimo maestro di ballo bastano pochi minuti dell'aquila di ligonchio col microfono acceso per accendere lo studio e prendersi da sola il titolo di opinionista aggiunta del suo partner a ballando con le stelle dice peron è un po precisino un professionista ho passato con lui due mesi e mi ha torturato mi faceva fare la dieta alla fine dei due mesi l'ho distrutto ha perso più chili che nell'isola e io sono aumentata di peso ndr poi ammette beh un po pesante lo era con un consiglio stai zitto che ci guadagni solo diamo allo show chi sa fare show voto 9